Detto questo, allora, vedo che Venomale un po' tutti sapete ballarla, non a Milone. Oggi l'argomento era il traspier e io ci terrei un po' particolarmente a... ...dalla frontalità dei muschi. Cioè la donna, venite qui, fatelo qui, guardate. Guardatemi. Grazie. Questo per le patologie passando a tutti. Grazie. L'ultima cosa. Ho fatto un po' con la musica, Sergio. Questo è soltanto una chicca su come lavoro io. Vi ringrazio di essere stati qui con me e spero comunque di avervi... ...di aver contribuito in minima parte, almeno, a migliorare il vostro tanto, ok? ...di aver trasmesso perlomeno la passione che io ho nel fare questo da 15 anni. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.